Un'opera iniziata e mai finita è più dannosa che se non veniva fatta del tutto. Non chiudere quell'ultimo tratto di costa è un errore da incompetenti. Sono molto espliciti e chiari i bagnini di rappresentanti di categoria nel tracciare il giudizio su questa ennesima riprova con le mareggiate di questi giorni di ciò che vanno dicendo da anni e stagioni turistiche. Come vedete impotenti in questi giorni li vedi scrutare il mare dalla baia del Rastad, sì dalla baia come ormai sarebbe naturale dire vista la conformazione della costa che ha preso inevitabilmente. Sì perché il mancato realizzo di queste tre scoglieri che dovrebbero davanti a Bagni Gabriele, Maurizio e Carlo concludere l'opera di contrasto all'erosione della costa affanese ha invece inesorabilmente dato al mare la possibilità di scavare e di mangiarsi a vista più di 40 metri di litorale e di formare una vera cala a ridosso delle concessioni. Si vede ad occhio nudo, basta fare due passi in spiaggia. Ad oggi sappiamo che subito dopo la stagione dovrebbe essere eseguito il tratto, è fatto il tratto di fronte ai bagni Maurizio delle scogliere e successivamente deve proseguire l'opera fino al suo termine. Ad oggi sappiamo che è stato messo a bilancio un milione di euro per arrivare alla fine di questo intervento e quindi come dicevo prima a noi poco importa da dove arrivano i fondi, l'importante è che l'opera venga fatta, venga fatta non fra cinque anni ma venga fatta il prima possibile perché è una situazione che sta diventando sempre più insostenibile e non possiamo permetterci noi come operatori ma anche la città penso non si possa permettere di perdere uno dei tratti diciamo di litorale più importanti. Ora questo tratto di costa sta subendo lo stesso destino occorso alla zona sud di Sassonia quando il mare era arrivato quasi a ridosso delle case tanto da costringere i proprietari a metterle in vendita dall'insopportabile situazione che si veniva a creare ed ora tocca a noi purtroppo dicono i bagnini. C'era stato detto che ci sarebbe stato il primo stralcio di scogliera che poi avrebbe ricontinuato e ancora non abbiamo visto niente per cui intanto aspettiamo questo poi da lì ovviamente stiamo facendo dei progetti per cercare quantomeno di sviluppare una concessione che sia insomma ben fruibile a tutti e che non abbia tutte le problematiche dello scorso stagione perché l'anno scorso veramente le condizioni di questo lavoro di questo stralcio di lavoro lasciato ormai a nemmeno a metà un terzo ci ha veramente letteralmente proprio devastato. Ci appelliamo a chi di dovere perché questi lavori vengono fatti il prima possibile perché non si può veramente andare avanti così.